Bambè 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 No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale omo No me nemo, e te dì ambe me viale Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . . a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. . 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 May this certificate be a continual reminder to you that on this day in this place Western Australia you were set apart for the holy office of the gospel ministry. Do you hope you may end. M. Number one. I am going to graph sixk Depois genehold into the sanctuary home, the opera 1941 ofettre ends, Grazie. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.